Ma sul venticinquesimo capitolo del Principe siamo costretti a ripetere, quello che mi avete sentito dire diverse volte, centralità di questo capitolo nell'impalcatura del trattato del Principe appunto tocca un tema fondamentale. Il tema fondamentale è quanto incide il caso, lo chiama fortuna, nelle vicende politiche. E qui vi anticipo già qualcosa che poi potremmo dire a livello di bilancio, quindi un bilancio anticipato. Qui emerge di nuovo, ma da un uomo dell'umanesimo rinascimento non potevamo aspettarci altro, la fiducia che attraverso la sua attività l'uomo possa in qualche modo anche avere ragione di un elemento assolutamente irrazionale e imprevedibile come il caso. Da qui in poi userò il termine fortuna per essere d'accordo con Machiavelli dal punto di vista lessicale. Quindi grande fiducia, spazio all'iniziativa dell'uomo di fronte a questo elemento imprevedibile. Due, lo vediamo però magari in una seconda video-lezione dedicata a questo capitolo, la capacità numero uno che abbiamo già visto altrove, nel principe appunto di un sovrano, di un uomo di stato, di un politico, di adattare i suoi comportamenti, le sue linee di azione alle occasioni che gli si pongono davanti. Quindi con un termine soltanto, d'utilità dell'azione del politico. Vediamo però, procediamo con calma. Intanto ho circondato la prima parte di questo capitolo del principe dalle raffigurazioni della fortuna così come erano tradizionalmente riportate addirittura dai codici miniati medievali. Vedete che la fortuna, come spesso accade anche per noi, viene immaginata come una donna bendata, la fortuna è cieca, si dice in effetti, e di solito è circondata da una ruota. La ruota è proprio, se vogliamo, l'allegoria della mutevolezza del caso, della fortuna, delle sorti umane. Vedete che qui intorno c'è un poveraccio, una specie di sovrano e delle persone che sono agganciate a questa ruota che la dea bendata, come la chiamiamo noi, muove però ciecamente, appunto, senza una logica. Appunto è proprio un'immagine della fortuna, così come venne tramandata poi un po' dappertutto nella cultura occidentale per molto tempo. Bene, vediamo poi come esordisce Machiavelli. Ovviamente il titolo del capitolo, come sempre, è in latino e il vostro libro provvidenzialmente lo traduce quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorre a resisterle. Vedete, quindi che rilievo ha la fortuna nelle vicende degli uomini e però come si possa, in che modo è possibile, insomma, limitare i danni. Lui esordisce, come abbiamo visto a volte fare già precedentemente, preoccupato che le cose che dice lui in realtà sono una novità assoluta rispetto a, ecco, e azioni umane. Infatti lui esordisce e dice non mi è incognito, cioè lo so, mi rendo conto, come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbiano remedio alcuno. Allora, che dice qui Machiavelli? Dice, io lo so che tanta gente dice che le cose dell'uomo, le cose che ci coinvolgono, le nostre azioni, e le conseguenze delle nostre azioni siano governate o dal caso assoluto, dalla fortuna, oppure da Dio. E dice, e questi qui che dicono questa cosa dicono anche che l'uomo non ha nessuno spazio di manovra, cioè non può incidere su quello che è o il caso, o Dio decidono per lui. E invece dice, questa opinione è su da più creduta nei nostri tempi per la variazione grande delle cose. Tanto che dice, io qualche volta mi sono in qualche parte inclinato nell'opinione loro, cioè pure sono stato quasi tentato di pensarla in quel modo, cioè non c'è niente da fare rispetto alla fortuna o rispetto alle decisioni divine. Perché? Perché in Italia purtroppo, come vedremo poi in una seconda lezione, sempre dedicata a questo capitolo sulla fortuna, in effetti ne abbiamo viste di tutti i colori, e quindi abbiamo perso la fiducia che ci si possa in qualche modo o opporre o mettere un rimedio rispetto a quello che accade. Ovviamente trasferiamo sempre tutto il ragionamento in politica e quindi, diciamo così, qui Machiavelli sta dicendo, ne sono successe talmente tante che hanno completamente stravolto le nostre aspettative politiche in questi ultimi tempi, cioè qui nel nostro mondo contemporaneo, che siamo stati tutti tentati di pensarla in quel modo, cioè c'è poco da fare, cioè succedono cose imprevedibili che ci prendono di sorpresa e quindi non è possibile incidere su quelle cose lì. Non di manco, però, 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 insomma, riflettendoci bene, io dico poter essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che Eziam, lei ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi. Ecco la novità. Allora, mentre la maggior parte dei trattatisti politici e non pensano che la fortuna o Dio, tra l'altro Dio, ragazzi, tra poco sparirà nel nulla perché si parlerà solo di fortuna. Questo pure la dice lunga, no? Sul fatto che siamo in un'età umanistica dove il sovrannaturale, il divino, messo poi all'angolo, insomma, non è così importante come per esempio il Medioevo, no? Tanto per capirci. E Machiavelli dice, ecco, quello che dico io di nuovo, che in pratica smentisce un po' tutto quello che hanno detto i miei colleghi trattatisti finora, è che io invece immagino, penso che, è vero, nelle nostre azioni metà sono governate dalla fortuna, cioè metà di una nostra azione purtroppo dipende dal caso, l'altra metà però sta a noi guidarla. Quindi 50 e 50. Diciamo, ogni cosa che facciamo è sottoposta al nostro giudizio e certo anche però agli arbitri, ai capricci del caso. E quindi come si può fare praticamente? Come possiamo prevedere di correre ai ripari rispetto a questi rovesci della fortuna, no? Che a volte ci arride, a volte invece ci massacra e frustra i nostri desideri e le nostre aspettative e i nostri piani, ovviamente. Fa una cosa, dice una cosa interessante, come spesso succede, vi ricordate la volpe, il leone, il centauro, cioè utilizza un'immagine esemplare che ci aiuta a capire quello che dice poi subito dopo. dice che io paragono quella, cioè la fortuna, a un fiume, a un fiume che quando è tranquillo, ok, è nostro amico, quando il fiume diventa in piena, straborda e distrugge, vedete, fiumi rovinosi che quando si adirano, cioè quando si arrabbiano, allagano i piani, cioè allagano le pianure, ruinano gli alberi e gli edifizi, lievano da questa parte terreno, pongono da quest'altra, cioè praticamente quando un fiume è straripa, combina dei danni mostruosi. E quindi gli uomini che possono fare quando il fiume è ormai straripa c'è poco da fare, quindi ecco questo è una specie di metafora di una fortuna avversa, quando il caso ti è contrario c'è poco da fare, però vedete, gli uomini quando sono tempi quieti non vi potessimo fare provvedimenti e corribare agli, cioè non resta però che gli uomini, questa è la frase completa, cioè detto questo però, agli uomini che cosa rimane? È di prepararsi quando i tempi sono quieti, quando le cose vanno bene, metaforicamente, quando il fiume è tranquillo nel suo letto, possiamo prepararci a casi negativi che possono accadere. Quindi in pratica, dice Machiavelli, è nei momenti di calma, è nei momenti in cui non c'è l'emergenza che l'uomo può predisporre piani, nel caso l'emergenza si ponga poi nell'immediato futuro. Chiaro, quindi approfittare della calma delle cose, insomma come si dice volgarmente quando le vacche sono grasse, quando le cose vanno bene, predisporre delle contromisure prevedendo qualcosa che può andare male. ecco, questo è importante, il discorso è questo, quello che fa lui. La fortuna ha il suo grosso peso, però anche noi per metà possiamo in qualche modo cercare di arginarla, possiamo appunto a proposito della metafora del fiume possiamo costruire argini, dighe che possono contenere la furia dell'allagamento del fiume che straripa. Il fiume che straripa è la fortuna avversa, insomma, naturalmente. Va bene, ci fermiamo qui per il momento, poi adesso vediamo nella video-lezione successiva Machiavelli farà un esempio su quello che è accaduto in Italia ai suoi tempi, no? Praticamente, quindi un esempio materiale, no? Ben presente ai lettori del Principe ecco che noi magari dobbiamo fare un piccolo sforzo per calarci in quello che era accaduto e a cui Machiavelli farà riferimento sempre sul piano di questo discorso sulla fortuna. Grazie per l'ora dell'ascolto e ci vediamo tra un po'. Grazie per l'ora dell'ascolto